Quarantunesimo trofeo, medaglia d'argento Presidente della Repubblica. Una gara che è arrivata alla sua quarantunesima edizione. Avremo gare dedicate alla festa del mare, quindi un modo un pochino più ludico, se vogliamo, di affrontare le competizioni per far conoscere anche un po' alla cittadinanza, a tutti coloro che partecipano quest'anno, le varie discipline legate al mare. Sempre la solita atmosfera di unione, è qualcosa di emozionante sempre gareggiare qua in casa, la sento come casa. Grazie 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 Grazie